Io sono Elisa Scarlatta, sono un influencer, siamo qua per raccontare la bellezza di questo Giro E. Pedaliamo su delle biciclette con l'aiuto delle batterie. Oggi siamo alla settima tappa, devo dire che nonostante ci siano le batterie, stiamo faticando e non poco. Esperienza bellissima perché siamo sulle stesse strade dove corrono i veri campioni professionisti, quelle del Giro d'Italia. Grazie a tutti.